Questa è la serata degli offriti speciali qui a Exegro Tra qualche istante c'è ancora una pedana libera lì alla mia sinistra Tra qualche istante sarà occupata dalla bellissima Justine Justine, come, you wanna be sexy, sexy, salivando sul patio, Justine Harder, oh... Deeper... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.